Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono rallentamenti per un incidente tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. Spostandoci sulla FIPP lì si segnala la presenza di animali sulla strada nel tratto compreso tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra l'incrocio con la 12 e Rosignano Solvè in direzione Nord. Svincolo chiuso all'incrocio con la 12 sempre in direzione Nord. A Firenze è iniziata la seconda fase per il preesercizio del proseguimento della linea 1 della tramvia dalla stazione fino a Careggi. La linea è interessata da questo preesercizio di almeno 10 giorni deciso dal Ministero dei Trasporti ed avviato il 2 luglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!